sto camminando su questa via che probabilmente vabbè ci saranno passati dei quelli con sci alpinismo e vabbè c'è un po di neve ha fatto un po di neve perciò non è sempre facile mantenere questa via perché appena esco da questa via sprofondo di mezzo metro e più ciao salve bentornati benvenuti a tutti a questo nuovo video sicuramente molti di noi conosceranno il detto che fa oggigiorno si conosce il prezzo di tutto ma non la qualità o il valore più o meno così un altro ad esempio sarebbe la qualità ha il suo prezzo cioè più paghiamo qualcosa più alta è la qualità ma è veramente sempre così in questo video vorrei parlarvi di prezzi e qualità un po dirvi la mia basata anche un po su delle continue discussioni con certe persone o esperti anche dell'ambito autor io non sono un esperto comunque anche ho fatto certe domande o post su instagram che andremo a vedere più tardi e vorrei raccontarvi perché ho rifiutato un'offerta veramente allettante di una ditta famosa ditta che produce zaini ma non solo una ditta tedesca però questo più tardi nel video intanto buona visione il tutto è partito un po ultimamente vabbè recentemente ho fatto un paio di post story su instagram di zaini di un seghetto rotto della silky che ho rotto io ultimamente dopo tre anni d'uso ne parleremo dopo sì ho posto un po sta domanda che praticamente sono sono l'unico a pensare che più costo non sempre vuol dire più qualità e vediamo vedremo c'è stato un riscontro pazzesco tantissime risposte e appunto anche un po un dibattito un scambio di messaggi pazzeschi e il risultato ve lo dirò dopo di cosa ne avete pensato voi per chi non lo sapesse vabbè sono anche su instagram e lì mi diverto un po a fare anche queste cose non vi obbligo a seguirmi minimamente su nessun social però per chi non lo sapesse sono su instagram vorrei salutare un po tutti i nuovi iscritti io sono Peugeot guida escursionistica istruttore di sopravvivenza e bushcraft appassionato di outdoor della vita all'aria aperta di tutto quel ben di dio vabbè amante della natura e niente che vedevo di c'è stato un boom di iscritti veramente tanti questo dato dal fatto di un video che ahimè è diventato un po virale nelle ultime due settimane sì più di centomila visualizzazioni purtroppo succede anche a me ero sempre molto fiero che non sono mai riuscito a fare un video comunque è uscito un video che youtube decide o vabbè google non so chi è però comunque che diventasse virale questo low profile che avevo per anni e anni e anni ci tenevo un po devo dire vabbè adesso è successo così però forse dopo questo video avrò di nuovo un sacco di iscritti in meno giusto per farvi capire con chi avete a che fare patti chiari amicizia lunga preferisco pochi iscritti ma quelli fedeli e buoni iniziamo col silky praticamente mi si è rotto il silky dopo tre anni penso che l'avevo avevo il silky gombo e quello di 200 con la lama di 210 mm eccolo qua questo adesso è la lama nuova che ho comprato questa e quella rotta vabbè la lascia ancora impacchettata perché questo ne rompe su tutto lo zaino perché i denti sono estremamente taglienti ancora dopo tre anni cosa è successo l'ho rotto si è rotto la lama proprio qua l'altra questo adesso se notate magari questo è il super accel e questo comunque il gombo e non è lo stesso modello è un altro modello il super acce però la lama di il super acce va anche qua per il gombo e tra l'altro un'altra dentatura ci sono tre dentature diverse quella fine media e quella l'altra ok eh niente si è rotto pareva una strage cioè eh ma silky di qua silky di là adesso si rompe che schifo non vale un tubo prima cosa che ho fatto io qualche giorno dopo è comprare l'altra lama perché il manico puoi tenertelo che dopo anni come vedete è ancora in un buono stato e comunque puoi comprare solo la lama che costa intorno ai 30 euro e boh sei di nuovo apposta la lama si è rotta perché io l'ho usata nel modo sbagliato semplice e forse dopo un paio d'anni ci sta anche che qualcosa si rompe e adesso se uno entra vede un video e dice ah perché io l'ho fatto vedere senza problemi l'ho rotta si è rotta non è che adesso questo prodotto sia un prodotto non valido e faccio subito un altro esempio perché ci sta foto e robe varie di un mountaintop un zaino nuovo che ho preso e a me piacciono il mountaintop è il terzo zaino che prendo perché come prezzo qualità io li trovo fantastici e comunque subito ci sono state delle reazioni e mountaintop è roba cinese roba schifosa non tiene un tubo il mio si è rotto subito eccetera eccetera rotto di nuovo e questo per dire che secondo me questa è la mia opinione il mio parere la maggior parte dei prodotti che abbiamo si rompe o si rovina perché non li usiamo nel modo adatto cioè facile dare la colpa sempre al prodotto però secondo me c'entra anche tantissimo come lo usiamo noi detto questo sì ci sono state delle discussioni veramente interessanti però non è niente di nuovo anche i miei amici più stretti sanno come la vedo io e io non dico che certi prodotti non valgono il prezzo attenzione adesso quello che dico non dico che non hanno non sono qualitativamente buoni certi prodotti ok sicuramente una bella tana rifugio per qualche animale ok vabbè per spiegarla ancora con un esempio poi dopo torniamo di nuovo al punto sennò qua mi allargo troppo un altro esempio per fare un po capire quello che voglio dire c'è stato un video fantastico adesso non sto neanche a dire chi però è lo stesso perché non si sa mai come lo prende la gente ma un video che confronta due materassini uno della termareste non sbaglio 150 passero e l'altro della natura che costa 50 euro se non sbaglio e conclude praticamente il video con verso la fine il convincente che per lui è il termareste ci sta assolutamente il termareste è sicuramente il migliore di questi due se vogliamo dire il migliore se mi chiedi chi vince il duello per me lo vince il nature hike perché per i miei usi è quello che faccio io e io ho usato il nature hike a meno 20 gradi senza problema sulla neve sicuramente non isola così tanto quanto è migliore il termareste fuori discussione però per il 95 per cento degli usi che facciamo noi e io di usi ne faccio posso dire tranquillamente va benissimo il nature hike e così mi chiedo perché devo andare a prendere un termareste perché isola meglio dell'altro ok sicuramente lo fa però non mi serve non so se mi spiego credo di no appunto dipende sempre un po anche dal personale punto di vista e uso cioè io un po mi conoscete per quelli che mi seguono un po di più sapete quello che faccio non sono un tipo estremo non faccio alpinismo estremo anzi le cose estreme non non mi piacciono non metto la mia vita cioè non voglio rischiare la vita per niente di meglio da fare e comunque vado sicuramente al limite dell'uso di 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 dei dei prodotti ok e questo ripetutamente e poi ci sono sempre prodotti cioè non parliamo di adesso di tutti i prodotti anche se sto parlando un po in generale ci sono certi prodotti dove dico come scarpe calzini magari l'abbigliamento intimo quello il primo strato vicino alla pelle e comunque magari altri prodotti in generale attrezzatura ok c'è quello tipo di attrezzatura dove non risparmierei mai prima di tutto scarpe e calzini per quello che ho detto per primi se non hai la qualità giusta lì vai veramente a rovinarti le tue camminate sono video così complicati questi devi far così attenzione cosa dici perché comunque andrai a non so c'è la la gente se la prende in ogni caso ma è ovvio è normale ed è così come ad esempio guardate questo fantastico giacca mantello capuccio potrebbe costare centinaia di euro questo prodotto fantastico outdoor di un negozio famosissima outdoor bershka mi sa che l'ho pagato 10 15 euro sta roba già da anni l'uso ed anche qua si dice che è il mio tipico marchio di fabbrica no per niente guardate lì che spettacolo no non è il mio marchio di fabbrica per niente io ho semplicemente problemi con dei prodotti che vado a pagare centinaia di euro e poi non rendono non tengono ovvio che io faccio un uso un po più impegnativo se anche io ho comprato le mie giacche da due trecento euro però appunto adesso inizio a ripetermi troppo dipende sempre un po dal tuo punto di vista delle uscite che fai adesso se faccio sci alpinismo mi servirà roba tecnica buona se faccio se vado a sciare magari mi serve roba buona per ovviamente il vento che c'è devi avere un buon antivento una buona giacca e io per tutto il resto delle uscite che faccio anche se devo camminare ore 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 fare trekking di giorni 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 come ho fatto cioè anche i prodotti di media fascia media qualità o anche a me sono sempre bastati poi potete ognuno può vederla a modo suo non è che miglioro non è che sono non è che vado più veloce non è che adesso Killian è un famoso corridore trail running non penso che lui non vincerebbe le gare se non avesse adesso lo zainetto della Salomon non le vincerebbe anche con quello della Decathlon sicuro poco ma sicuro e poi sicuramente anche un po un mio stile di vita atteggiamento che ho verso i prodotti in generale c'è uno zaino osprei che mi costa 300 euro togliamo lasciamo stare osprei perché parlo troppo spesso di osprei a volte o faccio prendo questo esempio Fjellraven prendiamo Fjellraven la bella bandierina svedesina come si chiama quel kanken lì quel 20 cm per 30 di zaino non so che una stoffa vabbè che costa 100 euro la bandierina svedesina e dietro made in Vietnam o Cina che ne so io è che lì mi sento un po' preso per il culo tutto lì cioè io la vedo così so che tantissimi non capiranno non approveranno e i miei migliori amici o compagni di viaggio tutti osprei, deuter che ne so io vaude eccetera eccetera fantastico bellissimo li ho avuti anch'io sono ottimi però io non capisco perché devo andare a prendere uno zaino o comprare uno zaino da 300 euro se quello da 70 80 90 100 euro per quello per la mia esperienza per quello che posso dire io mi ha sempre accompagnato in tutti i viaggi in tutti i viaggi che ho fatto e che volevo fare non ho mai avuto problemi tornando al discorso di prima facendo attenzione come siamo i prodotti ok perché è facile dar la colpa appunto al seghetto se io non l'ho usato nel modo corretto è stata colpa mia perché l'ho rotto ora vi dico ora vi dico il pool fatto su instagram dove ho appunto chiesto ma solo io ritengo che più costo non sempre vuol dire più qualità ci sono state centinaia di risposte appunto e quasi l'80% ha detto no il 20% 21% ha detto sì questo avete detto voi la vostra opinione e ora vi racconto perché ho rifiutato e forse qualcuno l'ha già capito un po' si capisce già perché ho rifiutato una mega offerta l'anno scorso nel 2020 primavera ho avuto questa offerta di una mega ditta poche persone lo sanno è una ditta tedesca che fa prevalentemente zaini ma non solo fa vari prodotti outdoor non mi interessa assolutamente dire il nome e questa ditta mi ha fatto un'offerta semplicemente mi volevo mandare un paio di da quanto ho capito cartoni di roba questa era una cosa un po' più complicata cioè collegata anche a un contratto dove dovevi firmare un contratto una sponsorizzazione tipo bello interessante ho valutato la cosa ho pensato un po' e riflettuto ma riesco io a presentare perché ovviamente dovevo fare anche dei video e presentare questi prodotti usarli anche con il trail running faccio un sacco di trail running eccetera però era più prodotti outdoor come anche sacco a peli eccetera mi pagavano anche questo forse importante dirlo per ogni video che facevo o che pubblicavo mostrando questo prodotto ti pagano anche poi io ho rifiutato perché semplicemente non riuscivo cioè non mi entrava in testa in questa cosa di mostrare un prodotto di fare vedere un prodotto che io non comprerei mai come vi ho appena detto dove secondo me spendi dei soldi che non sono giustificati come avrei potuto fare mostrarvi dei prodotti fare del video su su dei prodotti che io ritengo dove io ritengo il prezzo esagerato e non giustificato in base alle uscite escursioni che faccio ecco forse sono troppo sincero ma io sono così so che molti non capiranno e mi dispiace cioè non voglio adesso essere critico per niente e non ho spero che non si capisca non penso di aver mai detto che non sono qualitativi questi prodotti hanno un'ottima qualità nei prodotti fantastici ok non fraintendete questa cosa ovviamente ma migliore qualità o specialmente anche indumenti eccetera ci aiuta a volte anche è molto più comodo avere prodotti più qualitativi più buoni ok io metto solo un po un dubbio se deve essere adesso la giacca da 500 euro della fiel raven secondo me basta che qualcos'altro o se fai giri in bici come lorenzo barrone spero di essermi ricordato il nome a meno 50 gradi in siberia con l'abbigliamento o l'attrezzatura sbagliata gli vai a rischiare la vita ovviamente no quello no fatemi sapere sotto in descrizione metterò un po cosa metterò metterò magari materassini che ho detto il zaino di cui ho parlato il seghetto della silky se vi interessa per vedere un po sti prodotti commentate fatemi sapere che cacchio ne pensate voi mandatemi tranquillamente a quel paese perché tre quarti delle persone che mi staranno guardando guardano sto video hanno un deuter un fiel raven un zaino vaude un osprei eccetera eccetera ovviamente penseranno che volevo finire con un altro detto che fa praticamente il prezzo è quello che paghi è il valore è quello che ottieni è il valore secondo me siamo noi stessi a decidere quanto cosa come vale un prodotto appunto in base a quello che facciamo direi che per questa volta è tutto ci vediamo al prossimo video alla prossima ciao ciao ciao